sto pescando con un darkside 10.000 che è un mulinello nato per le tecniche del surf casting e del car fishing quindi sono tecniche dedicate al lancio è un bellissimo mulinello in questo caso gli ho abbinato una bobina fonda perché ho voluto caricare molto filo di un diametro grosso 0,35 0,40 e è venduto con due bombine da lancio uno in alluminio e uno in teflon una frizione micrometrica che è la cosa che piace di più ai pescatori e una affidabilità massima sia in fase di lancio che in quella di recupero del pesce una delle un'altra delle cose molto interessanti di questo mulinello sicuramente al rapporto qualità prezzo che io considero fantastico appunto per le qualità e la performance dell'attrezzo il prezzo è veramente abbordabile